Un'idea nata e realizzata nell'isola da un'intuizione dell'algherese Sara Piccinini e di suo marito Federico Peluso, giocatore di Serie A con la maglia dell'Atalanta. Si chiama Soccer Planet ed è il primo social network per calciatori professionisti, uno spazio pensato come un grande spogliatoio ma virtuale, come descrive bene ed in modo ironico il video di presentazione cliccabile su YouTube realizzato da Giulio Fanelli e Maurizio Pulina. Il progetto è stato presentato nei giorni scorsi a Milano, ma che cos'è Soccer Planet e a chi si rivolge? Ce lo dice Claudio Simbula, giornalista e social media editor che ha collaborato all'iniziativa insieme ad un team di professionisti, tutti made in Sardinia e tutti rigorosamente under 30. Soccer Planet è un progetto innovativo perché è la prima community di calciatori e permette loro di soffrire di servizi utili e informazioni dedicate a loro e alle loro famiglie. È utile anche perché ci sarà una bacheca dedicata al pubblico per cui tutti quanti i fan e coloro che seguono il calcio potranno vedere quello che i calciatori vogliono comunicare e interagire con loro. Oltre a Claudio Simbula hanno partecipato al progetto Nives Masala, Laura Marti, Michael Tramante, Sandro Pertici, Riccardo Pirina e Rossana Giuffrida. Un mondo di giovani attenti ad una società che cambia e sempre più tecnologica e connessa. In Sardinia ci sono molti talenti, ci sono molte menti creative, in particolar modo giovani che sanno approcciarsi al meglio a questo nuovo mondo. Sono in tanti ragazzi che avrebbero qualcosa a dire, sanno come dirla, hanno tutte le potenzialità per essere qualcuno, anche a livello professionale, hanno solo bisogno di un'opportunità. Soccer Planet, lo spogliatoio sempre con te.